La Cusato è nata circa 30 anni fa come azienda di produzione di mobili classici, quindi parliamo di complementi d'arredo, quindi pezzi singoli, però con quelle caratteristiche di un pezzo classico. Quindi partendo dal complemento d'arredo classico, quindi dal pezzo singolo, abbiamo voluto evolverci innanzitutto presentando ambienti completi, quindi parlo della zona giorno, piuttosto che la zona tv, la zona notte, quindi ampliare la gamma di possibilità d'acquisto e in più anche una variante di vari stili, delle varie aree di gusto. È un progetto che nasce su una filosofia differente rispetto a quella che aveva l'azienda, un po' più moderno e che viaggia un po' in quell'onda del Living Llam. È una collezione che si chiama Alterna e comprende sia la zona giorno che la zona notte. Si tratta di un sistema di contenitori componibili, con questo gusto molto spiccato, dove comunque l'essenza, cioè la lavorazione del legno, viene molto evidenziata. Infatti Arita Tosato è rinomata per questa capacità, per questa esperienza e lì quindi abbiamo sfruttato un po' anche questa logica, quindi spessori su spessori, l'uso totale di Massello gestito in due essenze di colorazione. Interveniamo anche col colore laccato sempre a poro aperto e riusciamo con questa abilità anche ad ottenere essenze laccato sullo stesso pezzo. Abbiamo deciso noi di puntare ancora sul mercato Italia, oltre che sul mercato estero, però con questo valore aggiunto, quindi puntando su una fascia di clientela selezionata, particolare, che però apprezzi un prodotto curato nei minimi dettagli, quindi dal materiale anche alla ferramenta, alla finitura della ferramenta, quindi anche le gambe piuttosto che le maniglie sono tutti pezzi, tutte parti del mobile studiate da noi internamente e realizzate da noi, quindi non c'è nulla di replicabile in maniera industriale oppure che si possa trovare su altre aziende, su altri prodotti.